Buonasera, benvenute e benvenuti e benvenutu. Questo è Mind the Gap, è il nostro festival transfeminista che quest'anno arriva alla quarta edizione. Io sarò velocissima perché siamo in super ritardo, però lasciatemi dire che è stupendo vedere che non c'è posto per questo talk e quindi ovviamente è merito di chi parlerà adesso, però io sono molto commossa perché evidentemente questo festival è necessario, quindi questa cosa è bella, è semplicemente bella, quindi grazie per essere qua. Io ringrazio Carola e il circolo dei lettori che ogni anno ci aprono le porte e se non lo sapete Mind the Gap è un festival diffuso, se lo sapete vi aspettiamo in tutti gli altri spazi e anche al circolo dei lettori dove avremo altri eventi, guardate il programma online, parleremo di tantissime cose perché il transfeminismo è cosa complessa, come la vita è cosa complessa, però siccome noi mentre prendevamo un caffè ci stavamo chiedendo il perché di questa bella partecipazione, vi posso chiedere quanti di voi sono meridionali? Ok, quanti di voi abitano una periferia? Ok, vabbè io come potete sentire sono di Bolzano e quindi non sono della categoria, no sono molto molto contenta. Seconda generazione, cioè i meridionali che hanno alzato la mano, sono nati a Torino? Se siete seconda generazione, quanti di seconda generazione? Molti meno, le seconde generazioni sono timide. Io vi lascio immediatamente a questo talk, lascio la parola Valentina Farinaccio che vi presenterà le nostre ospiti, io ringrazio tutte e tre perché siete meravigliose ed è bellissimo da avervi qua, basta, basta. Grazie. Buonasera, vi do il benvenuto, io sono Valentina Farinaccio e ringrazio Anna Rita Masullo per tutto quello che fa, quindi le sono veramente grata e quando lei mi ha chiamato per propormi questo talk, io ho detto ma guarda noi ci conosciamo da molti anni, ho detto guarda Anna io vorrei farlo, solo che devo studiare tantissimo perché comunque io intanto sono una donna di un'altra generazione, sono femminista ma volevo essere veramente informata sui temi di questo talk, ho detto quindi madonna sarò all'altezza e lei mi ha detto amore, con quell'accento che avete appena sentito, amore ma tu sei femmina, sei nata e sei cresciuta in Molise, secondo me sai già tutto, quindi diciamo che questo è stato il modo in cui tutto è cominciato, io vorrei, voglio far parlare le mie ospiti che sono Claudia Fauzia, la mala femmina e Martina Miciche che ha scritto femminismo di periferia, quindi io farò parlare loro però ecco nel, in questo processo in cui mi sono avvicinata a quello di cui loro si occupano così meravigliosamente nella loro vita di attiviste, mi sono resa conto di quanto in realtà le tematiche di cui parleranno oggi, parleremo oggi, mi tocchino e ho pensato forse toccano le vite di tante, di tanti, anche di chi non lo sa, perché per esempio io sono nata appunto nella periferia di una piccola città, di una piccola regione del sud Italia, no? Tant'è che solo ora mi sto rendendo conto di perché io mi arrabbi così tanto quando mi fanno la battuta, ah sei molisana, ma perché il Molise esiste? Ecco io all'inizio tanti anni fa ridevo, ora non rido più perché dato che ho imparato a far combaciare le parole con i fatti, dato che le parole sono importanti, effettivamente ogni volta che qualcuno dice che io vengo da un luogo che non esiste, io mi sento così, mi sento inesistente e soprattutto mi sono anche ricordata di quando facevo la prima elementare, la prima media, il liceo in questa piccola scuola di una piccola città, di una piccola regione e il primo giorno di scuola, tutti i primi giorni di scuola della mia vita e anche tutti i primi giorni di scuola in cui c'era un supplente o una supplente, io mi ricordo e io sono sono cresciuta senza un papà, quindi tecnicamente orfana, mi ricordo questa domanda che mi veniva fatta, veniva fatta a tutte le persone che erano in classe con me, che lavoro fa tuo padre? E io sono cresciuta con questo stigma, cioè io avevo il terrore di questa domanda perché dovevo rispondere eh no mio padre è morto, allora in questi giorni mi sono chiesta ma perché mi veniva fatta questa domanda? Quando ero una bambina, una ragazzina, una giovane donna, perché mi veniva chiesto se fossi nata e cresciuta al centro di Roma o al centro di Milano? Me lo avrebbero chiesto ugualmente, avrebbero avuto comunque il bisogno di catalogarmi? Boh non lo so, è una domanda aperta, però ecco per raccontarvi in che modo secondo me alcuni argomenti ci toccano anche quando pensiamo di no magari, ci arrivano, ci toccano dei nervi che credo che abbiamo tutte e tutti. Dunque io parto e vi cedo molto volentieri la parola proprio per chiedere a entrambe in quale punto delle vostre vite vi siete rese conto che quello che sentivate, quello che eravate poteva diventare attivismo, poteva diventare politica. Quando è successo? Se c'è proprio un episodio che vi ha in qualche modo introdotto poi a quello che siete ora, anche pubblicamente? Vedo che mi indichi così. Ok allora, devo dire che nel mio caso è stato un insieme di cose, intanto ciao a tutti e grazie per essere qua, il vostro tempo è preziosissimo quindi grazie per aver scelto di investirlo così. È stato un insieme di cose perché non è stata una scelta così cosciente in verità, non è che ho detto ok di questa roba posso fare un messaggio politico, perché non è stata una scelta nel momento in cui mi sono resa conto che non avevo scelta, era così o le cose sarebbero continuate ad andare nello stesso modo e non me lo potevo permettere. Quindi in realtà è stata un'assunzione di responsabilità derivata da una serie di cose che si sono sommate nel tempo, in quanto persona socializzata come donna, con una sessualità considerata non conforme, che viene da un quartiere della periferia di Milano, ora non so quante persone qua siano familiari con la geografia milanese, non è così importante per la vita anche se la Lombardia ci tiene a farci credere che in realtà è il contrario, perché la Lombardia pensa di essere il papà dell'Italia, però ok, parlare di patriarcato, la Lombardia diciamo che se la vive abbastanza male questa cosa. Praticamente il mio quartiere è Comasina, che è un quartiere della periferia di Milano, è un quartiere considerato malfamato, disagiato, pericoloso, un quartiere dove ci sono solamente persone pericolose, infatti attenzione, attenzione ai vostri portafogli perché ci sono io nella sala, mi raccomando, che però per me era il quartiere della vita, è quello in cui sono nata, dove c'erano i miei affetti, dove c'erano i miei problemi, è quello in cui mi sono mossa e che mi sono resa conto essere diverso da come lo potevo percepire io quando ho iniziato a uscire dal quartiere, quando ho visto chi fossi io negli occhi delle altre persone, perché loro lo decidevano per me a priori, chi fossi io, cos'era lo spazio che abitavo, che non è uno spazio da romanticizzare, alle sue criticità, ma non sono colpa né di chi lo abita né dello spazio in sé, è quello che se ne fa il sistema degli spazi come quello da cui vengo io, il problema. E quindi ho iniziato a vedere che io ero costantemente sovra rappresentata, sovradeterminata e ho iniziato un percorso di omologazione, cercavo di comportarmi in un modo da essere sufficientemente conforme a quel centro cittadino che in realtà non mi avrebbe mai voluta, perché io non sono centro, io sono periferia, sono nata periferia, periferia ci crepo e con tanta gioia e tanta rivendicazione. Però sono dovuta arrivare a questa consapevolezza scontrandomi con la realtà dei fatti, quando ho capito che sì, io potevo cercare di omologarmi, potevo cercare di acquisire determinati comportamenti, una cosa che racconto spesso è che io quando sono andata a vivere fuori di casa sono andata in un altro quartiere, perché era l'unico posto in cui sarei potuta andare a vivere e ho perso lo slang del mio quartiere, perché automaticamente ho smesso di parlare con alcuni termini che sono abbastanza tipici per chi abita da me, che sono dei modi per descrivere i soldi, piuttosto che dei modi per salutarsi, anche il tipo di saluto che offriva era diverso, cioè nel mio quartiere ero abituato a dare la mano, spallata e via, così, a posto. In centro dovevo comportarmi diversamente, dovevo dare la mano, dire il mio nome, essere carina, dire un po' meno parolacce possibilmente, cosa che non ho mai imparato a fare, ok? E poi a un certo punto mi sono resa conto che anche a fingere di non essere chi fossi, io quel centro non lo ero, ma soprattutto quel centro a me faceva schifo, perché quel centro di base non esiste, è un'illusione, si autodefinisce discriminando le altre soggettività. E nello stesso periodo sono inciampata sul femminismo che ho dovuto trovare fuori dal mio quartiere e lì mi sono incazzata, perché ho detto perché io devo uscire dal mio quartiere, perché il femminismo nel mio quartiere non arriva, perché da me non ci parla, perché non vengono a fare i festival nel mio quartiere dove non è che la violenza di genere smette di esistere, anzi sappiamo tutti che alcuni spazi sono dei cluster per la propagazione di violenza di genere, perché da me non c'è questo discorso, perché noi non siamo il pubblico di questo discorso, valiamo meno? Le nostre vite valgono meno? Cosa siamo noi? Forza lavoro e forza riproduzione? E lì mi sono incazzata parecchio, allora boh, è andata così. Grazie Martina. Io adoro quello che dice e scrive Martina perché non si rifugia nella retorica del milanese che ce l'ha più grande di tutti gli altri, che è tipo la cosa che io ascolto più spesso nella mia vita. Però dicevi appunto, cioè mettevi in guardia il pubblico sui portafogli, ma io sono siciliana, amo. Vinco io. Allora, intanto grazie per l'invito, è molto bello essere qua, sia perché siete un botto, sia perché è fighissima sta sala, peccato sia del risorgimento. È una battuta. Allora, per rispondere alla domanda, quando ho capito che il femminismo terrone o quello che è diventato il femminismo terrone sarebbe stata la mia strada perlomeno nel mondo dell'attivismo, ma anche nel mondo professionale, sarebbe stato il mio lavoro in un certo senso. Parto un po', la prendo larga. Io vengo dalla periferia di Palermo, ho avuto un'infanzia molto felice, è una famiglia bellissima e lo dicevo nel TED, io la mafia l'ho studiata nei libri di scuola, per contestualizzare quanto è stata poca la mia sofferenza. E non ho mai avuto il desiderio di andarmene via, cioè non ho vissuto quella cosa di devo assolutamente scappare dalla Sicilia perché è un posto infernale e fuori troverò il meglio. Non l'ho vissuta sulla mia pelle, però l'ho sentita, l'ho sentita attorno a me. Ed effettivamente a un certo punto, a 18 anni, io ho l'opportunità di andare a vivere fuori, cioè me ne vado proprio lontanissimo, vado a finire in Sud America e lì dal Sud America io rivaluto la mia posizione nel mondo. Banalmente mi rendo conto di una serie di privilegi che ho e quindi, diciamo là, ce lo racconto perché succede per la prima volta che io dico a una persona colombiana, tra l'altro eravamo tipo in un paesino di 5.000 abitanti, quindi sulle Ande, remotissimo, mi chiede da dove vieni? Io dall'Italia, ma dall'Italia dove? Dalla Sicilia. Ah, sei mafiosa? Tipo in che senso pure qua? Dopo questa esperienza io ritorno, decido che avrei, come dire, per una responsabilità nei confronti di quello che succede nel mondo, avrei studiato e che i miei studi potevano servire a qualcosa, a diminuire certe disuguaglianze e inizio l'università. La magistrale decido di farla a Bologna, in realtà non lo decido, quello che volevo studiare io, cioè studi di genere delle donne, c'era soltanto a Bologna e vado a Bologna. Io a Bologna scopro di essere terrona, cioè io non l'avevo mai saputo prima, o meglio, non avevo contezza di che cosa fosse la discriminazione nei confronti delle persone meridionali e dire che io ero in una bolla molto privilegiata, stavo facendo studi di genere nella città che oltre a Milano si racconta come super progressista. Però quando io esprimevo le mie difficoltà in termini economici perché io dovevo lavorare per pagarmi gli studi e per pagarmi la casa che costava un delirio rispetto al mio ambiente e anche le mie difficoltà in termini di trasporto e per me tornare a casa per le vacanze era svenarsi perché costava sempre tantissimo. E poi una questione che aveva molto a che fare con il mio modo di parlare. col mio accento e con le parole che io usavo come intercalare. Io venivo scimmiottata costantemente, è come te, ha ha ha, che divertente questa cosa. E le battute sulla mafia continuavano. Io in quel momento non avevo contezza di che cosa volessi esprimere. A un certo punto torno in Sicilia e non lo faccio coscientemente ma questa cosa esce da me. Cioè a un certo punto dico proprio il femminismo deve farsi carico della questione meridionale che esiste ancora oggi. cioè dal risorgimento di questa sala è cambiato ben poco. Esiste ancora oggi e io non ho le stesse possibilità, le stesse opportunità e la mia soggettività non è raccontata allo stesso modo all'interno di questo paese. E questa cosa per un femminismo che si dice intersezionale deve contare qualcosa. E lì inizia tutto un percorso che inizia attraverso i social perché era il 2020 e lo ricordate bene che è successa una cosa un po' rilevante tipo la pandemia ed eravamo tutti chiusi a casa e quindi decido di aprire questi canali social. Ed effettivamente quello che dicevo risuonava nella vita direi di tantissime altre persone. Poi questa cosa è andata avanti ovviamente e a questo progetto si sono affiancate tantissime altre persone. E con l'idea che il femminismo deve essere un'esperienza collettiva e che i social hanno un limite abbiamo creato insieme un'associazione che si chiama Malafimmina come il nickname che ho utilizzato per questo profilo, dico solo st'ultima cosa, si chiama Malafimmina perché in Sicilia si dice che buona femmina è chi da comparra. Chi l'ha capito? Beh, la buona femmina è quella che sta in silenzio, che non parla perché è accondiscendente al volere e alla parola di qualcun altro, che di solito è il padre, il fratello e il marito, Milano. Mi odierà Martina dopo tutto e sei battuto, oppure mi ammerà di più. Ma no, ma no, ma guarda. E quindi niente, l'abbiamo chiamata così e siamo orgogliose di essere la prima associazione che in Italia si dichiara transfeminista e meridionalista. E poi il perché lo capirete, faccio un'autopromozione brevissima. Vai, lo puoi fare tranquillamente. Lo capirete in un libro che uscirà in autunno. Lo aspettiamo. Tra l'altro la tua maglietta, il mio accento è politico. Io vi consiglio, c'è un TED che ha fatto Claudia di recente, è veramente molto interessante e si parla anche di questo, il mio accento è politico. Ma in fondo Martina prima, quando hai detto che nel momento in cui sei andata via dalla Comasina per il centro, la prima cosa hai rivisto il modo di parlare. Perché a volte cerchiamo di andar bene a qualcosa che non siamo e che non vogliamo essere peraltro. Io penso che il punto d'incontro fortissimo tra quello che Martina ha scritto nel suo libro e quello che fa quotidianamente Claudia è che si cerca di guardare il mondo e la vita dalla prospettiva di chi deve fare una strada a volte molto lunga, a volte faticosa per arrivare dove altre persone sono già. E questa cosa effettivamente fa impressione, perché prima parlavamo di fatica. Ci sono delle situazioni che partono con una penalità per arrivare dove? Tu parli Martina diffusamente nel tuo libro, peraltro si parte dal discorso della periferia intesa proprio come tale, ma poi questo discorso diventa metaforico di proprio tantissime cose che vengono concepite in quel modo, con quella frattura netta tra centro e periferia che viene applicata al mondo, ahimè. Però ecco tu parli un po' di quella che è la sindrome dell'impostore, del nascere in periferia cercando di guadagnarsi un centro che poi in realtà cos'è? E soprattutto quando racconti la città costruita a misura d'uomo, è impressionante quello che viene fuori. Ecco, come sei arrivata a quest'analisi così accurata, così precisa e così anche crudele? Beh, un po' dipende dal fatto che nel libro ho voluto parlare anche di maschilità di periferia, ovvero del tipo di maschilità criminalizzata e che talvolta diventa criminale, che c'è in un quartiere come il mio. Perché c'è un po' questa convinzione che le persone che hanno commesso crimini nella loro vita siano delle merde, debbano marcire in carcere e chi si è visto si è visto. E io però con queste persone ci sono cresciuta. Prima hai citato la criminalità organizzata, vorrei fare uno spoiler. Anche al nord c'è, tipo Bardonecchia l'ha tirata sull'andrangheta, così, per dire nel mio quartiere la criminalità organizzata è un problema. Sono realtà concrete, sono realtà complesse, ma non solo, ci sono anche altri tipi di crimini. Io nel libro ho intervistato due persone che io conosco da quando sono nata, ovviamente in forma anonima, che hanno raccontato la loro esperienza del carcere. Quando si analizza quella che viene definita devianza criminale, che poi anche lì è sempre una questione di definizioni, un po' il discorso, tutto il discorso che gira intorno al centro qual è? Che c'è un nucleo di potere che dà definizioni. La devianza viene definita tale sulla base di alcuni criteri che possono essere più o meno concordati e condivisi e condivisibili. Non tanto da me, sotto certi aspetti, però ok. Quello che loro raccontavano è quello che effettivamente viene denunciato costantemente, non da me, ma da secoli di studi sociologici. La devianza si crea. Il crimine non è naturale, non è insito nel singolo individuo perché quello è un individuo fallato. È un individuo che ha cercato delle risposte in un sistema e quello che ha trovato non era sufficiente. Perché si ruba? Salvo rari casi che poi ovviamente fanno sempre un po', come posso dire, audience, ma si ruba anche per necessità, si ruba per vivere. Oppure si ruba per vivere come quelle persone che sono particolarmente ricche, si ruba per conformarsi, si scelgono dei comportamenti che possono essere problematici, che possono essere pericolosi, che possono essere violenti, per conformarsi ad uno standard, per arrivare a quello standard. Perché quello standard, da quando sei nato, ti dice che tu lì non ci puoi stare. Non hai diritto di stare lì, ma costantemente cosa fa? Ci riempie di pubblicità, ci riempie di immagini, ci riempie di stereotipi che ci dicono come dovremmo ambire ad essere. E ognuno, con gli strumenti che ha a sua disposizione, cerca in qualche modo di arrivarci. Perché quella è la parabola che ci insegnano, che c'è un centro meraviglioso e che la nostra ambizione massima nella vita è essere tutti lombardi. Non ve lo auguro, comunque la Piedra Padana è un po' una merda, ce lo dico da milanese. Quindi non mi offendo se insulti Milano, perché ogni tanto fa bene. Anche perché Milano si racconta come una città cosmopolita, una città diversa, una città in movimento. È una città di capitali per capitalisti. Perché la diversità Milano o la mette a reddito fa finta di non vederla. Ce ne abbiamo delle persone che non possono attraversare da una piazza all'altra, perché è pieno di camionette della polizia, rischiano di essere cuzzate che magari sono senza documenti. Siamo in questa realtà qua. Questa è la realtà di Milano, non quella del salone del mobile o del design. Tu dici che il nord e in questo caso, scusami perché mi hai fatto in mente, c'è un nord e in particolare Milano che si autoracconta e c'è un sud che si lascia raccontare. Che viene raccontato. Che viene raccontato, scusami. Perché poi è sempre una cosa di agentivazione attraverso la passività. C'è chi si arroga il diritto di decidere, come un po' la disquisizione accademica. È l'accademia che studia determinate realtà, dà nomi, classifica, codifica, cerca di strutturare un discorso, senza però rendere partecipe chi viene definito da quel discorso. Questo è un problema, perché è una sovradeterminazione. Quello che il nord Italia fa sempre con il sud Italia, che è sempre fatto col sud Italia, dalla famosa unità d'Italia, hanno deciso che l'Italia era una. Eh, bravi loro. Hanno deciso che, sì, adesso siamo tutti uniti. Facciamo delle leggi, però non andiamo a vedere quali sono le leggi estereali, ma soprattutto non chiediamolo mai. E continuiamo ad agentivare il sud Italia. Poi nel libro, come dici tu, ne parlo a livello metaforico, ma perché di fatto il discorso del centro e delle periferie è proprio una strutturazione socio-economica in cui è suddiviso tutto il nostro mondo. Noi abitiamo il nord globale, che si definisce tale, si definisce sviluppato, che è una parola coloniale terrificante, e ha definito il resto del mondo sud del mondo. Esistono tanti sud. Non esiste un unico sud. Sono tanti, molteplici, diversi, trasversali, a volte si incrociano, a volte si interse, che a volte non si incontrano nemmeno. E sono praticamente la totalità del mondo. Perché se poi guardiamo le proporzioni geografiche è imbarazzante. Eppure perché c'è questa disparità? Perché c'è questa definizione? Perché c'è questa cesura, questo confine, che come tutti i confini è semplicemente un accordo di proprietà, una decisione presa in maniera arbitraria? Perché cosa se ne fa al centro delle periferie? Perché il centro definisce le periferie? Perché ne trai profitto. Perché se questi luoghi sono margine, sono meno rilevanti, sono meno interessanti, se le soggettività che vengono fatte rientrare in questi luoghi, che non sono solo geografici, sono anche identitari, sono meno rilevanti, sono meno importanti, allora non si ascoltano e si usano, fin tanto che fa comodo. Poi quando non fa più comodo, chi si è visto, si è visto. E questa cosa la vediamo in qualsiasi dinamica. Io l'ho vista nel mio quartiere, come l'ho vista in tutti i paesi che ho visitato con il mio lavoro. Sono realtà costanti, perenni, di un sistema iniquo che si regge con l'abuso, lo sfruttamento e l'estrazione costante. Ed è un'estrazione che possiamo definire materiale, ma anche culturale, anche sociale, anche ecologica, identitaria, che va a costruire questi microscopici centri di potere che si permettono e si arrogano il diritto di sovradeterminare chiunque altro e negano a quelle persone, a quelle soggettività, a quegli spazi l'autodeterminazione. E a questi spazi cosa rimane? O la mimica del potere per provare a sopravvivere e quindi diventano spazi potenzialmente tossici che ripercuotano queste dinamiche oppure vengono dimenticati. C'è una terza opzione, che è quella che di solito non raccontano, che è l'uscita. Il fottercene di un sistema così. Rifarlo da capo, raderlo al suolo e ricominciare da zero. Che è una cosa che si può fare. Io ve lo dico sempre che si dovrebbe fare, tipo domani, però ok. Tu parli proprio di espulsione sociale come conseguenza di tutto questo. Ma perché di fatto cosa succede? Quando si definisce uno spazio periferico si crea automaticamente una cesura. È questa cerniera che crea un fuori e un dentro. Tutto quello che è fuori è sbagliato e quindi viene schiacciato progressivamente fuori, che è quello che vediamo succedere in tutti gli spazi che vengono gentrificati. Prima parlavamo della turistificazione. Che cosa succede? Che chi non è considerato soggetto interessante da un punto di vista socio-economico, culturale, viene costantemente spinto verso un margine sempre più esterno. I margini non sono fissi, non sono statici, si modificano progressivamente. Ad esempio, ora vogliono gentrificare il mio quartiere. Gli ha sempre fatto schifo. Quando ero piccola io, adesso ci fanno queste bellissime torri ultra falliche che stanno un po' in mezzo al cazzo e fanno salire il prezzo delle case. Questo cosa vuol dire? Che l'utenza storica, media, del mio quartiere non si può permettere le case in cui vive. E dove cazzo vanno? In Brianza, dove le case costano di più? Andranno in altri spazi ancora più periferizzati. E questo chi va a colpire prima? Magari chi ha solamente una macchina all'interno del suo nucleo familiare. E quando si deve scegliere, ad esempio, in un nucleo familiare, prendiamo la famiglia tradizionale, visto che va tanto di moda e piace tanto. Ecco, facciamo questa famiglia tipica. Persona socializzata come donna, sposata con una persona socializzata come uomo. Che mediamente guadagna, non so se il 40% in più della persona con cui vive. Quando bisogna scegliere quale delle due attività lavorative preservare, chi è che verrà favorito? Ma giustamente il breadwinner, perché bisogna sopravvivere. E quando questo vuol dire scegliere chi userà la macchina, significa che la macchina la userà la persona socializzata come uomo. Nel frattempo, la nostra persona socializzata come donna dovrà comunque sobbarcarsi l'onere di cura, perché famiglia tradizionale vuol dire anche figli, figli che vengono ovviamente presi e sballottati. E questo vuol dire che lei dovrà allungare i suoi tempi di percorrenza all'interno della città, perché le città, lo dicevi prima, sono disegnate per gli uomini. Per lo stereotipo di maschilità e gemone, che è quello a cui mi riferisco quando dico uomo, che cosa vuol dire? Che la città è pensata per portare tutto verso il centro in un'asse casa-lavoro. Chi abita al centro può anche dire vabbè, esco mi vado a fare una passeggiatina, dai che figata, però il discorso è quello. Non è pensata perché ad esempio deve portare i figli a scuola, perché magari nel frattempo deve anche occuparsi di persone anziane, perché magari vuole avere una vita sociale o perché magari non ha il luogo di lavoro vicino alla casa o alla scuola. Questo cosa vuol dire? Che se un uomo fa un percorso lineare, una persona socializzata come donna deve fare uno scarabocchio della sua mappa quotidiana e perde tempo. Perde tempo della sua vita su mezzi che sono inefficienti e spesso sono spazio dove avvengono molestie. Perde il suo tempo in un ambiente che non è pensato per ottimizzare gli spostamenti trasversali, ma solo verso un'unica direzione. Quindi faccio l'esempio del mio quartiere. Comasina è accanto a Quartogiaro e qua c'è Bruzzano. Sono tre quartieri particolarmente stigmatizzati, peraltro. Se per caso questa persona ha i figli che vanno a scuola a Quartogiaro, perché deve essere più difficile andare in un quartiere che è virtualmente più vicino piuttosto che andare nel quartiere che è più vicino al centro? Perché bisogna prendere due mezzi per andare a Quartogiaro? A me basta prendere una metropolitana per andare ad Affori, che è più vicino al centro. Perché Quartogiaro vale meno? Il mio legame con Quartogiaro vale meno. Perché noi dobbiamo essere separati. I nostri percorsi contano meno. Al di là del motivo per cui ci siano, perché quello che conta è che queste persone stiano a casa, facciano lavoro di cura gratis, non retribuito, e nel frattempo rimangano ancorate ad una relazione che non sempre dura tutta la vita. Perché ci si può anche lasciare in questa vita, si può anche scegliere di vivere vite separate, ma se una persona diventa economicamente dipendente dal compagno perché il suo quartiere è stato gentrificato, dove cazzo va? Senza soldi, senza lavoro. Se è in una relazione disfunzionale, se teme per la vita dei suoi figli, se teme per la sua vita, se semplicemente vuole stare da sola o con un'altra persona, cosa fa? Ma è una scelta. Perché? Perché le città chi le disegna? I centri di potere chi le disegna? Chi li abita? Chi li attraversa? Chi li difende? Di certo non noi che siamo periferia. Grazie. Grazie. Tra l'altro aggiungo che esiste ultimamente grazie a Dio anche la medicina di genere, però i test per la sicurezza stradale per le auto vengono fatti su manichini uomo e questo comporta un'altissima mortalità delle donne rispetto agli uomini in casi di incidente stradale, per dirne una, sempre rispetto a quel discorso degli uomini usano la macchina di più perché? E vabbè, l'abbiamo detto. Claudia, c'è una domanda che tu hai fatto anche, ti sei autoposta in uno dei video che hai pubblicato sul tuo profilo e che tra l'altro è in qualche modo anche ricorrente nel TED che hai tenuto qualche giorno fa, ovvero com'è possibile che tantissime persone meridionali siano antimeridionaliste e ti chiedo intanto di raccontarci questa cosa e poi di collegarsi di collegarti anche al discorso degli stereotipi che hanno il potere magico di autoavverarsi ecco in che modo queste due cose dialogano tra di loro ok parto dalla periferia così per agganciarmi anche a quello che diceva Martina perché io credo che ci sia molto in comune tra i discorsi che facciamo e il margine credo che sia l'elemento che riesce a accogliere le cose che diciamo faccio una piccola digressione l'altro giorno ero a Trento per un talk e una persona mi ha detto io vengo dalle valli trentine tu credi che possa esistere un'alleanza fra le battaglie che portiamo avanti e io ho detto sarebbe totalmente il mio sogno perché rifugo l'idea identitaria di io sono meridionale o il sangue meridionale e quindi la mia battaglia viene prima di altre in realtà questa cosa non la dico manco io la diceva Gramsci ai tempi auspicava che le masse contadine del sud Italia e delle isole potessero allearsi con le classi operaie del nord contro i padroni sta cosa non è avvenuta mai e siamo adesso qua nella situazione in cui ci troviamo quindi magari riuscissimo a creare realmente queste alleanze tra femminismi che parlano di margine e periferia a Palermo esiste la zona di espansione nord più carinamente chiamata Zen perché zona di espansione nord ed è un quartiere che è stato costruito a tavolino per buttarci lì dentro le persone che non avevano una casa quindi costruzioni popolari però è stato proprio ghettizzato cioè lontano non solo dal centro lontano pure dalla periferia lo Zen ed è un quadrato adesso sono diventati due perché c'è Zen 2 non starò qui a raccontare che cosa succede allo Zen succedono delle cose molto brutte ma ne succedono altre veramente molto belle una volta come si chiama quello Brumotti quello con la bici arriva allo Zen in cerca degli spacciatori non è stato accolto benissimo nel senso che gli hanno tirato le pietre hanno cercato di cacciarlo e vorrei non giustificare queste reazioni qua però mi risulta un po' difficile perché quello che cercava Brumotti e il programma strisce la notizia era proprio quella reazione là volevano confermare la rappresentazione dello Zen che poi succede in tante altre parti del meridione che è un posto in cui la criminalità la fa da padrone non esistono delle cose belle neanche nei quartieri di quel tipo o comunque lui non le ha raccontate ci ha tenuto soltanto a far vedere le ferite che gli erano state fatte dalle persone che avevano lanciato le pietre il punto è che noi subiamo questo tipo di narrazione qua e la narrazione ha un peso importantissimo nelle nostre vite perché se per tutta la vita ci raccontano che noi siamo e possiamo essere soltanto cittadini di serie B che noi saremo comunque incastrate nel potere criminale e nel potere mafioso che non abbiamo modo di uscire da questo sistema se non scappando dalle nostre terre che facciamo schifo che siamo ignoranti che siamo sporchi che siamo cialtroni che non arriveremo mai a raggiungere quella modernità là che poi è imposta alla fine un po' un po' lo credi cioè perché te l'hanno detto per così tante volte per così tanti anni che alla fine dici vabbè forse hanno ragione e che cosa succede che anche tu cominci a dire queste cose no? Dici no ma da qua me ne devo andare perché fa tutto schifo no ma le università migliori sono altrove la gente migliore è altrove però dici anche una cosa che secondo me è semanticamente significativa dici la civiltà loro sono civili e noi siamo incivili e crei la gerarchia anche proprio semanticamente con le parole molto spesso ti rendi conto che non è esattamente così cioè che questa narrazione cioè che le narrazioni sono parziali è una grande femminista ci ha insegnato che il problema è proprio la storia unica e la cimamanda angozia di che per citarla e il problema che vive il sud è la storia unica e lo viveva anche la periferia lo stava dicendo Martina il problema di questa storia unica è che poi te la bevi ci credi anche tu e reiteri lo sguardo dell'oppressore e ancora una volta per tornare al linguaggio ci sono delle cose che accadono che sono da un lato pratiche di sopravvivenza dall'altro lato però ci fanno molto male che quando le persone del sud con accento e parlata meridionale vanno altrove devono limarla questa calata perché se no il docente universitario ha il pregiudizio che tu quella materia non la sai perché parli in un certo modo perché se stai cercando lavoro e sei meridionale sicuramente sei una persona incapace o comunque più incapace di tanti altri e non sono cose che diciamo non è retorica non lo sto dicendo così per sentito dire perché ho raccolto negli anni un botto di testimonianze scusami Claudia aggiungo incapace e sfaticata sì tra le varie cose no? cioè come pregiudizio di partenza solo sulla base del suono che ha la tua voce assolutamente però questo è anche pericoloso dire che afferisce soltanto la dimensione della rappresentazione perché poi ha effetti sulle politiche sulle istituzioni c'è il fatto che non ci sia più il reddito di cittadinanza è una cazzo di ingiustizia perché ci sono delle persone che non riescono a sopravvivere e a me sembra veramente molto logico che le persone che richiedono di più in maggioranza il reddito di cittadinanza siano quelle che risiedono nelle regioni più povere cioè mi sembra che sia scontato lineare questa cosa no? però è stato creato a tavolino una figura che è quella del re dei sussidi è tipo sta persona che prende il reddito di cittadinanza lavora in nero o comunque fa altri lavori tendenzialmente illegale ed è un riccone cioè proprio al meridione pieni pieni di questi ricconi che hanno bisogno di prendere i redditi di cittadinanza e queste cose sono false o meglio non sono state dimostrate dalla statistica quindi sono cose pur parler no? oppure alimentare la logica antimeridionalista poi per l'ultima parte della domanda che facevi tu lo stereotipo si autoavvera si diciamo sociologicamente sperimentata questa cosa quando cioè è il rosso malpelo l'abbiamo letto? sì eh molti bravi quando tu dici a una persona cioè hai delle aspettative su quella persona pensiamo anche a uno studente no? se l'insegnante ha delle aspettative negative nei confronti di quello studente quello studente andrà a male a scuola cioè non sarà spinto a rendere bene a dimostrare quello che vale perché sa di non valere quindi perché fare questo sforzo e questa cosa accade tipo collettivamente cioè non abbiamo la spinta per riuscire a dimostrare e anche a dimostrarci non a dimostrare sempre all'esterno dimostrarci che qualcosa di buono in realtà l'abbiamo fatta anzi ne abbiamo fatte molte e qui dovremmo riraccontarci la nostra storia e io me ne sono resa conto perché non conoscevo la mia eredità femminista manco quella siciliana cioè quando sono tornata in Sicilia e ho iniziato a intervistare perché questa è stata la prima attività che ho fatto diciamo dopo l'apertura dei social ho iniziato a intervistare la mia gente quindi le persone che si occupavano di femminismo o di queerness e mi sono resa conto che non conoscevo niente cioè non sapevo realmente che nel centro musica e cultura che è stato creato da Peppino Impastato a Cinisi negli anni 70 c'era una un'assemblea femminista anni 70 prima degli anni 70 erano negli anni 60 sto parlando di Cinisi negli anni 60 c'erano delle persone delle donne che si riunivano e facevano femminista adesso tutti questi documenti sono conservati nell'archivio di Casa Memoria e che poi sono state interrotte da un assassino mafioso poi non ce l'hanno fatto più a continuare perché appunto l'assassino di Peppino Impastato ha sconvolto l'intero paese però sono alcune di loro ci sono ancora e partecipano agli eventi di musica e cultura e secondo me è una testimonianza così grande così importante che mi prenderei a schiaffi per non averla saputa però non è manco colpa mia solo che adesso il mio impegno è quella di raccontarle a tutti cioè tutte le persone devono sapere questa storia e tantissime altre hai Claudio hai fatto peraltro hai fatto il nome di Peppino Impastato e mi è venuto in mente questo bellissimo parallelismo che hai fatto recentemente nel momento in cui abbiamo per fortuna sentito forte la voce di Elena Cecchettin rispetto al femminicidio di sua sorella Giulia e quindi abbiamo visto un dolore trasformarsi in rumore e in politica soprattutto tu hai paragonato hai raccontato a paragone la storia proprio di Felicia Impastato la madre di Peppino ed è bellissimo il fatto che non solo hai detto ha fatto la stessa cosa al tempo e quindi qui entriamo anche nel discorso dell'antimafia e via di seguito però hai detto anche una cosa importante cioè lì il problema non era solo trasformare in politica un dolore ma anche nell'esporsi nell'essere nell'uscire nel momento in cui soprattutto in certi luoghi d'Italia c'è un lutto da rispettare proprio fisicamente col corpo quindi non ma il contrario di manifestare no? Sì perché anche nella periferia della periferia nel marge del marge comunque vige il patriarcato cioè questo non ce lo dobbiamo dimenticare e Peppino in passato è stato narrato come un eroe quando in realtà se non fosse esistita Felicia Bartolotta la sua storia oggi non solo non sarebbe conosciuta ma è possibile che quell'omicidio sarebbe ancora stato definito un caso di suicidio cioè è stata sua madre che lo ha reso un eroe o di terrorismo sì esatto era stato accusato di terrorismo perché era comunista e quindi era brigatista e Felicia Bartolotta ha fatto una cosa che anche nell'antimafia è inusuale cosa era successo quindi c'è questo omicidio lei viene fatto passare per suicidio e lei dice no assolutamente no questa cosa nessuno la può dire mio figlio non si è suicidato mio figlio è stato ucciso ovviamente lei era sposata con un mafioso quindi sapeva benissimo come funzionava la logica mafiosa quattro giorni dopo la morte di suo figlio lei si irreca alle urne elettorali perché vuole votare suo figlio che si era candidato alle elezioni e lo fa rompendo una regola morale diciamo cioè la donna che sobbisce un lutto deve non solo vestirsi di nero ma chiudere le porte di casa sua e stare in silenzio perché così rispetta il morto lei fa tutto il contrario apre le porte di casa sua esce di casa si irreca a votare e quelle porte rimarranno aperte madonna mi sto facendo dei brividi a me viene da piangere quindi scusate è proprio una cosa quelle porte sono aperte tuttora Felice non c'è più adesso ed è sua nipote Luisa che continua a tenerle aperte c'è una genealogia femminile femminista anche qua e lei ha trasformato casa sua in un posto in cui poteva svolgersi l'antimafia che anche l'antimafia ha un sacco di problemi perché tutti i politici che poi vengono arrestati si dicono antimafia lei ha fatto un'antimafia che non è di mestiere è una pratica è un'altra cosa che poi viene raccontata in un libro che si chiama Che centriamo noi non mi ricordo il sottitolo è di Gisella Modica Alessandra Dino loro dicono la pratica rivoluzionale di Felicia è stata raccontare è stata raccontare la storia di suo figlio perché ha raccontato un'altra versione che è la versione diversa dalla politica e la versione diversa rispetto all'antimafia di mestiere e oggi questa cosa continua a succedere e allora il riferimento che facevi il parallelismo tra Giulia tra Elena Cech e Tin è felice proprio questo trasformare un dolore in un motore di azione per fare per portare avanti le idee di qualcuno questa è realmente una pratica molto rivoluzionaria nell'antimafia grazie Martina tu tu ti occupi sembra no? tu ti occupi di disuguaglianze l'approccio è intersezionale antispecista io ti chiedo quella che secondo me è una cosa importantissima oggi e te lo chiedo con da persona che si è avvicinata a questo dibattito relativamente tardi io ho 44 anni e dieci anni fa dodici anni fa non si diceva neanche sindaca o ministra cioè non esistevano proprio delle cose che oggi cominciamo a insomma cominciamo a metabolizzare quindi io faccio parte di quella generazione diciamo che la consapevolezza l'ha dovuta acquisire strada facendo tante mie coetane che magari appunto continuano a vivere in Molise non si sono neanche ancora avvicinate ad alcuni ad alcuni temi quindi insomma io ti chiedo nel tuo lavoro nel tuo impegno che cosa stanno facendo le parole cioè cosa vuol dire oggi usare le parole giuste abituarci a plasmare il linguaggio su quello che siamo che vogliamo e sulle cose che viviamo ogni giorno ok allora parole io dico un sacco di parolacce no scherzo allora perché sono importanti ma per il semplice fatto che noi usiamo le parole non solo in senso parlato anche segnandole anche scrivendole noi usiamo le parole per definire quello che ci sta intorno ma soprattutto per raccontare il nostro mondo interiore e farlo confrontare con quello che ci sta intorno rivendicare delle parole anche usare delle parole giuste che sono giuste per noi che sono giuste per le comunità che sono giusti per i gruppi marginalizzati significa ribaltare questa narrativa significa smettere di parlare la lingua del potere e parlare la lingua di tutto significa che non è più il potere a dirci chi siamo chi possiamo essere quali profezie dobbiamo avverare quali percorsi possiamo seguire ma significa determinarli noi tra di noi quindi escludendo il potere dall'equazione smettendo di riconoscere effettivamente che questo potere abbia questa capacità egemonica sulle nostre vite sulle nostre possibilità sulle nostre esistenze su chi vogliamo essere su chi siamo usare le parole giuste ovviamente è una ritengo si possa definire una pratica transfeminista per il semplice fatto che come si fa a usare parole giuste non è giusto nel senso di dare un valore numerale alle parole questa è un parola è un 10 questa parola sulla scala della giustezza forse è un 5 significa prima di tutto fare un processo di decostruzione che passa necessariamente decostruzione significa di smantellamento delle proprie convinzioni e non è un processo distruttivo a volte può essere doloroso soprattutto quando si parla magari di oppressioni interiorizzato oppure di oppressioni che si è sempre vissuto ma di cui bisogna prendere coscienza attiva che è un percorso molto doloroso significa anche rivedere alcuni eventi della propria vita in una chiave diversa capire che magari sono stati abusi abusi costanti abusi collettivi abusi familiari significa prendere questa condizione e attraversarla in un gruppo nel transfeminismo perché anche se a volte ci viene venduta questa cosa per cui ci sono delle personalità di spicco che magari in alcuni momenti hanno un microfono oppure no il femminismo non sono singole persone sono tutte le persone transfeministe siamo una comunità siamo una collettività enorme si parla di femminismi si parla di linguaggi si parla di pluralità si parla di soggettività perché siamo insieme e per essere insieme la prima cosa dobbiamo fare è ascoltarci non nel senso uditivo ma proprio nel senso di posizione di noi stessi nei confronti delle altre persone davanti a noi quindi un ascolto assoluto che non si limita a dire io sto attraverso faccio transfeminismo unicamente per me per quello che serve a me Martina Miciche che viene dalla comasina e tutti i cazzi miei che non vi racconterò perché anche chi se ne frega significa stare lì sapendo che la lotta non è mia perché la lotta non è di proprietà di nessuno la lotta non ha padroni ed è una lotta che spesso ci porta a doverci confrontare con quello che noi stessi diamo per scontato e che è il nostro margine di privilegio perché che cos'è il privilegio di fatto è una porzione di potere che viene sottratta a una moltitudine di persone e allocata in maniera iniqua verso un gruppo ristretto di persone che l'esercita come diritto qualcosa che tutte le altre potranno solamente sognarsi significa riconoscere quella dinamica e sapere che anche quando ci si pone in una dinamica di contrasto rispetto a questo stato delle cose non è che il privilegio svanisce io non smetto di essere una persona privilegiata in quanto persona bianca perché sono antirazzista perché milito come persona antirazzista perché i privilegi che derivano dalla mia presenza come persona bianca in una società razzista e suprematista come quella che mi chiamo adesso rimangono ed è un onere è una responsabilità rendersi conto di questo ma non si può fare transfeminismo senza lottare contro il proprio privilegio senza lottare a fianco delle sorelle ascoltando le sorelle le compagne tutte quindi non fermandoci a quel tanto che fa comodo dicendo ok sì io sono così 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 questo mi va bene la mia amica è così allora mi va bene no questa è una lotta marginale è una lotta piccola ma il transfeminismo è tutt'altro e ci insegna a parlare a altro ci insegna a vederci in un altro modo vediamo il mondo in una maniera totalmente diversa a volte terrificante deprimente e fa malissimo però sappiamo e non a livello retorico che non è più una questione singola che non siamo mai effettivamente sole perché finché c'è un'altra persona transfeminista da qualsiasi parte del mondo anche se noi non abbiamo contezza noi non siamo sole stiamo portando avanti una battaglia trasversale che ha realmente il potere pratico ed effettivo tu prima parlavi di una pratica effettiva perché il transfeminismo sì può essere teorico ma è pratico esiste ogni giorno è un'alternativa radicale possibile e percorribile al sistema che noi oggi abitiamo e lo è quando noi cominciamo a riconoscerci come coro e questo non vuol dire perdere la nostra soggettività la nostra identità ma stare in un posto in cui questa ha un valore politico assoluto in cui nessuno la farà venire meno io mi occupo di diseguaglianze quindi vuol dire che tipo la mia vita è a un immenso ciclo depressivo poi sono una persona cronicamente depressa e questo è ancora più divertente ci scherzo un sacco spero di non mettere a disagio nessuno nel caso mi scuso sono meccanismi di sopravvivenza anche questi questo vuol dire che praticamente a metà del mio tempo cerco quella cosa che non conosco e non perché io sia particolarmente bravo bella che cazzo se ne frega ma proprio perché parte il mio lavoro è cercare di capire quella disuguaglianza che ancora non è stata intrecciata prima parlavi della responsabilità del femminismo intersezionale rispetto alla questione meridionale è proprio questo e quante persone saprebbero che la questione meridionale è una questione femminista se non avessero ascoltato una persona meridionale che parlava del fatto che è una questione femminista quante persone saprebbero che ci sono degli spazi marginalizzati che sono doppiamente triplicamente non so usare i multipli va bene quattro volte oppressi dal sistema patriarcale capitalista se non avessero ascoltato se non avessero ricevuto in qualche modo la voce delle sorelle afroamericane come Angela Davis Bell Hooks Ruth Gilmore come faremmo a sapere che l'abbattimento dei CPR è una questione transfemminista se non avessimo il pensiero anticarcerario di Ruth Gilmore se non ci ascoltassimo se continuassimo ad andare avanti con questa mentalità individualista che è quella con cui siamo cresciute che è quella che ci fa credere che dobbiamo essere l'eccezione che conferma la regola nel nostro margine dobbiamo essere diversi dobbiamo cambiare dobbiamo omologarci ma soprattutto dobbiamo dimostrare che noi con quel margine non ci abbiamo a che fare e invece quello che ci segna il transfeminismo è tutto il contrario ci permette di parlare dei problemi del nostro margine al contempo di abitarlo di attraversarlo con consapevolezza è quello che ci fa vedere il mondo con un'ottica decoloniale prima avevi parlato della della dispercezione di competenze che c'è di competenze nei confronti delle persone del sud a me fa un sacco ridere questa cosa perché ad esempio se guardate la storia dell'unità d'italia uno dei punti che dicevano di differenza che allora era molto più ristretto tra l'altro tra nord e sud rispetto a quanto è stato registrato in seguito è il tasso di alfabetizzazione si parla di persone in alfabeto ovvero di quelle persone che possono leggere e scrivere a parte che è una categorizzazione estremamente escludente in termini assoluti ma è una parola di potere quella dell'alfabetismo perché derubrica una serie di sapere di modalità di propagazione culturale che non è che avevano meno valore semplicemente perché non erano scritte e nomenclate secondo la morale cattolica perché poi è stato il cattolicesimo insegnarci la parola analfabetismo prima c'erano delle modalità di propagazione culturale che si basavano tutte su diversi meccanismi usavano diversi medium tipo la musica piuttosto che la narrazione orale piuttosto che anche semplicemente la narrazione genealogica familiare erano tutte forme basate sul ricordo perché è stato rotto questo legame di continuità col ricordo perché il ricordo ci permetteva di costruire le nostre identità come comunità e di integrarle di volta in volta con le necessità del momento presente e anche con i cambiamenti del momento presente e quindi permetteva di costruire una cultura assolutamente dinamica che non era statica e questo è antitetico a qualsiasi meccanismo di potere perché il potere non vuole cambiamenti la chiesa cattolica voleva persone che stessero lì a pregare non si sa bene perché però ok e ha trovato un grandissimo alleato perché chi è che trionfa di più della chiesa cattolica in termini assoluti in una cultura che non esiste più perché di fatto una cultura estetica non è una cultura è morta è inerte non serve nemmeno i suoi scopi essenziali patriarcato e capitalismo loro hanno bisogno di parcellizzarci di impedirci di fare una comunicazione trasversale che prescinda dai meccanismi verticalisti ed elitisti perché è necessario far sì che noi continuiamo a percepirci come entità isolate e che alcuni di noi hanno più diritto di altri a parlare quando non è assolutamente così è solo la parola che ci danno da mangiare che è la voce del padrone che noi rigettiamo ogni volta che ci fermiamo e ci ricordiamo che forse in quel momento la nostra voce può parlare una lingua diversa e si riabitua si riformula e poi porca miseria c'è negli spazi transfeministi bellissimi non so di cosa hanno paura questi che dicono che non si possa più dire niente noi diciamo un sacco di cose non si sono mai dette anzi si moltiplicano no le possibilità grazie alle parole nuove quindi sì è viva il linguaggio ampio come si suol dire posso parlare di Jolier tra l'altro tu non ci crederai ma ti stavo dicendo giusto giusto quella domanda prima che ho una certa passione per Sanremo quindi figurati se non ti facevo la domanda su Jolier però volevo dire questa sto cedendo la parola a Claudia intanto preparate se volete qualche domanda perché insomma chiuderemo dando la parola a voi ma in realtà perché mi faceva pensare cioè non era uno scherzo nel discorso di Martina mi faceva pensare proprio a questa a come è stato creato il nostro paese dal punto di vista linguistico e come ancora adesso soffriamo appunto di questa discriminazione delle lingue cioè in Italia non si parlava l'italiano e non si è parlato per tantissimo tempo l'italiano qui si intreccia anche una dimensione classista cioè le classi in realtà tutte le classi contadine e poi quelle operaie non parlavano in italiano perché parlavano la loro lingua regionale che non è una storpiatura dell'italiano cioè dovrebbe essere considerata tipo una lingua sorella deriva dal latino cioè il siciliano il campano derivano dal latino quindi dovrebbero essere lingue sorelle per una ragione a noi adesso conosciuta sono considerati intanto chiamati tutti i dialetti e poi considerati appunto della gente o povera o ignorante secondo me quando Jullier cioè io adoro fare questo discorso quando Jullier porta il napoletano della classe povera a Sanremo viene criticato prima dagli intellettuali campani e napoletani che gli dicono quello non è intanto hanno dovuto rivedere il regolamento perché quella canzone è stata accettata però posso dire rivedendo il regolamento perché se no non poteva entrare proprio per via del dialetto però Sanremo è il festival della canzone italiana non in italiano e se in Italia si parlano tante lingue mi sembra stupido non includerle però vabbè faremo un'emozione collettivamente per cambiare questa regola a Sanremo fa secondo me eh no ecco intellettuali la prima cosa la critica degli intellettuali quindi della classe alta campana che dice hai scritto il testo napoletano di merda no è il napoletano che parla lui e va bene cioè ok che ci sono delle codifiche però possiamo accettare anche appunto l'oralità la norma orale secondo me è una cosa bella da includere perché è anticlassista e poi viene criticato dalle persone che evidentemente non capiscono la lingua regionale campana perché è escludente ora arriviamo a quanto sia escludente fare degli invalsi in italiano in un paese in cui ci sono tantissime persone che hanno l'italiano come seconda lingua e sto parlando sia delle persone meridionali la cui lingua materna non è l'italiano tutte le seconde generazioni di persone migranti figli di immigrati italiane e poi le persone migranti cioè questa cosa è un'ingiustizia assurda e noi sul serio ci stiamo confrontando cioè ci stiamo concentrando sul testo di Jullier è incredibile e quindi è diventato il mio mito anche se io non l'ascoltavo andrò al concerto per posizionamento politico per posizionamento politico è bellissimo è bellissimo sul linguaggio volevo dire proprio l'ultima cosa rispetto al termine terrone perché ancora oggi nonostante io l'abbia detto in tutte le salse la gente mi dice online offline non usare questo termine perché è discriminatorio non abbiamo capito che il processo è stato di riappropriazione dell'epiteto dell'insulto e quindi risignificazione se io dico io sono terrona non mi sto autodiscriminando cioè sto dicendo quello che è stato usato contro di me per definirmi banalmente una persona meridionale tendenzialmente vicino alla terra ok bellissimo ce lo sono è il mio orgoglio di appartenenza io sono assolutamente orgogliosa di essere terrona ed è anche questo un posizionamento politico quindi ci andrò con la magliettina terrona al concerto di Giollier ovviamente fai foto vi cedo con molta felicità la parola chi vuole intervenire se ci sono domande o anche interventi se volete è acceso sì allora intanto volevo ringraziarvi e non so voi ma io cioè per me è stato molto commovente questo incontro non so esattamente perché ma mi sono proprio commossa e anche per il semplice fatto che siamo in tante solo questo mi sento sicura e sono felice di essere qui quindi penso a quanto potremmo fare se effettivamente unissimo le forze tutte e vi volevo chiedere nella vostra esperienza personale come avesse fatto e se effettivamente ci siate già riuscite a trovare un vostro equilibrio per affrontare le le conversazioni comuni con quelle persone che costantemente ostacolano negano genitori tanto per fare un esempio e così questo grazie scusa dicevi negano per esempio il fatto del femminismo dici tutte le lotte di cui abbiamo parlato vado allora per me dipende dalla persona se capisco che quella persona è disposta a effettivamente avere un confronto allora sono ben disposta io a sostenere una discussione anche avendo delle posizioni diametralmente opposte perché so che possiamo arrivare da qualche parte e anche perché secondo me c'è un discorso da fare sui miei in questo caso privilegi cioè io ho avuto la possibilità di viaggiare e di studiare alcune cose ho la possibilità di acquistare dei libri ho la possibilità di stare sui social ho la possibilità di venire qua e tante persone che non hanno questa possibilità magari non sono riuscite a venire a contatto con degli argomenti che per me ormai sono al pane quotidiano quindi partendo da questo presupposto diciamo ci parto tendenzialmente bene poi ci sono delle persone che stuzzicano cioè non vogliono il confronto vogliono dare fastidio e in quel caso non mi frega niente finito in verità ne stavamo parlando prima quando si parlava delle domande perché ho chiesto come se la vivono con le domande provocatorie perché è una cosa che capita allora io in realtà sono d'accordo con quello che dice Claudia penso che faccia tanto anche il contesto e il tipo di ambiente familiare che si attraversa quanto è funzionale o disfunzionale anche nelle relazioni nella sicurezza personale io sono una persona molto rabbiosa quindi ho una soglia e cerco di giocare il meglio possibile ma poi sono anche una persona che si è dovuta riconoscere il limite di non avere sempre l'energia di stare lì a spiegare qualsiasi cosa perché sono dei momenti in cui io non ho voglia di giustificare la mia esistenza al mondo ci sono dei momenti in cui riesco a collarmi questa responsabilità e so che a volte non ce la faccio cerco di tenermi questa energia per spiegare determinate cose quando come diceva Claudia può avere senso perché ci sono dei contesti in cui non ha senso ci sono delle frasi a cui non siamo tenuti a rispondere perché a me è capitato di sedermi a tavola poi premesso io sono una persona transfeminista antispecista cioè quando mi siedo a tavola io sono un disturbo effettivo cioè mi guardano e cominciano di rimanere salame e no a Cristo scusate nel senso ma il pollo il pesce ma il pesce non sente niente ma le vongole e tu sei lì che dici ancora devo parlare delle vongole delle uova perché va bene facciamolo spieghiamolo per carità c'è anche poi da riconoscere che a seconda del tipo di lavoro che si fa del tipo di comunicazione che si fa questo cambia parte il mio lavoro è fare divulgazione quindi ci sono delle volte in cui io sono con gli amici a tavola che dico guarda se vuoi questo giorno io devo parlare di questa cosa vieni perché adesso in questo momento io vorrei passare una serata in cui non ti devo dire perché non si chiama egualitarismo e si chiama femminismo e te l'ho detto tipo 50 volte ci sta anche riconoscersi il limite di non avere sempre questa forza qua sapendo che non è nemmeno sempre una nostra responsabilità perché quando arriva una persona ostile la nostra reazione può essere una reazione a un comportamento ostile perché poi viene soprattutto quando queste persone socializzate come donne sembra che dobbiamo l'onere di cura anche in questo caso che dobbiamo essere sempre pronte sorridenti ben disposte nei confronti dello stronzo che ti ha appena detto secondo me dici una manica di stronzate sto parafrasando cose che mi sono state dette e che poi magari nel momento dopo sento una persona socializzata come uomo dire una manica di stronzate ma non si permetterebbe mai di dirglielo perché in quel momento è una persona percepita e socializzata come uomo che ha un microfono e quindi ha un potere che io non avrò mai e ci sono dei momenti in cui in questo momento io dico guarda vai quella è la porta e lo dico in una maniera molto più educata sapendo che ho anche delle sorelle intorno a me e mi è capitato delle volte di non avere questa forza di essere con delle persone che ho detto guarda me la collo io vai a prenderti un caffè a fare quello che vuoi a urlare contro i muri perché a volte è molto complicato perché dipende anche che rapporto sia con la famiglia io ho un rapporto abbastanza positivo con la mia famiglia quindi già il fatto che si finisca una cena io onestamente mi considero fortunata e poi è anche un discorso non verbale a volte perché io prima scherzavo sul fatto di essere la transfemminista antispecista ma veramente basta la presenza di una persona che si sa essere transfeminista in uno spazio a perturbare lo status quo che è il motivo per cui a volte si ricevono aggressioni perché si mette automaticamente in discussione un sistema che si dà per scontato il patriarcato se poi siete anche persone antispeciste dominio di specie cioè proprio si sciolgono succede anche questo quindi a volte anche la sola presenza la testimonianza l'esistenza di una persona che è transfeminista attraversa spazi in cui si sta bene quello che dicevi tu che molto spesso mi trovo anche a dire alle persone noi non è che stiamo in una stanza e ci flagelliamo oh mio Dio il mondo è una merda noi insultiamo il mondo ma poi stiamo bene facciamo delle serate transfeministe possiamo ballare senza essere molestate facciamo delle serate e abbiamo i DJ set decoloniali cioè voglio dire noi viviamo bene nei nostri spazi questi sono spazi dove le persone possono realmente essere felici e lo possono essere anche persone cronicamente depresse come me cioè pensate che roba in senso me la porto lì tra quando cinque anni sta cosa sono spazi che molte persone non attraverseranno mai perché magari nei loro luoghi di riferimento non esistono oppure perché vivono con lo stigma per cui questi sono spazi infelici sono spazi sbagliati sono spazi problematici la nostra testimonianza è anche ricordarli che l'alternativa c'è a volte possiamo anche fermarci lì quando non ce la facciamo ecco tanto se qualcuno mi dice l'ora così salve a tutti posso darti del tuo Claudia? no certo ma allora la primissima cosa che vorrei dire e lo dico veramente con voce tremante ma non vorrei sembrare il fan spiegatato che arriva qui però voglio così è voglio ringraziarti ma tanto perché tu ci stai cambiando la vita io sono napoletano e sono fuorisede qua a Torino e ho scoperto di essere in parte terrone da un anno e mezzo scusate se l'accento ogni tanto si piemontesizza ma quello che hai detto cioè resisti resisto giusto il problema cioè vabbè e lo dico in modo molto molto chiaro cioè tu perché seguo te ma con tanti tanto amico del del sud ci stiamo veramente cioè ci stai dando le parole e le categorie per riconoscere delle discriminazioni che viviamo e non è una cosa banale non è una cosa scontata e quindi di questo ti vorrei ringraziare e sì tra l'altro grazie quando hai fatto quel reel suggerire che lo manzo a chiunque perché c'è veramente lì quando te a quel paese e ti faccio anche giusto una domandina qui so cioè immagino la tua risposta ma ho bisogno di sentirla cioè io sono qui perché studio sociologia mi interesso di generi sessualità eccetera quindi lo insegnavano qua e sono venuto qua poi Torino mi piace tantissimo insomma vabbè si può essere credibilmente merdinalista anche cioè stando qui cioè la dico molto semplice e poi mi taccio subito mi sono trasferito un anno fa e quando sono sceso quest'estate a un certo punto eravamo alla sanità eravamo insieme e sono crollato a piangere tantissimo e i miei counselor mi hanno dato un boccia un problema col pianto io ho un problema che non riesco a piangere mai mi hanno consigliato 3.000 volte non ci sono riuscito ci è riuscito a Napoli quando sono ritornato giù perché una parte di me sente un tradimento molto forte è un limite è un limite e un limite nella credibilità di essere credibilmente meridionalista intanto grazie intanto grazie per queste parole che mi fanno emozionare sento un po' una responsabilità grande non so se riesco a gestire tutta questa responsabilità e mi auguro che questo diventi una cosa collettiva perché avrà senso soltanto in questo modo poi volevo dire una cosa secondo me dovremmo fare dei santini di Giollier e darli tipo alla gente che non ha ancora capito potremmo fare questa cosa qua allora secondo me non abbiamo bisogno di martiri nel meridionalismo prima faccio una premessa su che cosa intendo con meridionalismo perché storicamente il meridionalismo è stato il movimento di quelle persone che hanno hanno avuto una nostalgia di un passato che è stato molto idealizzato quello del regno neoborbonico e l'ambizione massima è quella di tornare là io credo che il femminismo intersezionale possa dare al meridionalismo una nuova spinta che sia appunto intersezionale che parli anche di genere di sessualità di classe e così via però è un meridionalismo che non ha tanto di noi sia in qualche modo utile credo molto di più nelle alleanze e siccome non abbiamo bisogno di martiri io credo che sia molto più efficace e anche politicamente significativo a sfiorare alla felicità se per essere felice tu hai bisogno di spostarti la mobilità deve essere un diritto lo è per chi desidera arrivare qua in Europa e lo è per noi cioè cercare le nostre opportunità vivere bene soddisfare le nostre ambizioni quella è la vera linfa del meridionalismo che vogliamo creare quindi elimina questo senso di colpa che tra l'altro c'è un retaggio super cattolico e non ce ne facciamo niente e lavoriamo insieme nelle alleanze tenendo molto in considerazione ovviamente i privilegi che abbiamo perché lo dopo è scontato però se hai avuto la possibilità di migrare effettivamente un privilegio ce lo hai responsabilizzati di questo privilegio e creiamo alleanze tra tutto credo ci sia tempo per un'altra domanda eccola lì cerco di farla veloce e di ricollegarmi in realtà ho sentito due modi diversi di chiedere e adesso cosa facciamo e quindi ve la ributto un po' anche su quello mi piace molto l'idea di ricominciare da raccontare delle storie nuove diverse da quelle che ci sono state raccontate più vere e più belle spero anche anche più brutto ogni tanto però ho sentito anche fin dall'inizio la necessità di non romanticizzare un passato prima di prima dell'Unità d'Italia prima del non so della gentrificazione di un quartiere prima di qualsiasi cosa e di riconoscere un passato che è importante ma che non va romanticizzato troppo che va raccontato per quello che è quindi siamo partiti da lì e la domanda è come raccontiamo un futuro e che cosa vuol dire per voi se avete dei suggerimenti di pratiche trans-eministe per immaginare un futuro assieme ok allora in realtà secondo me è una gran domanda quindi grazie perché poi c'è questo rischio che da un lato ci accogliamo anche la difesa dello spazio da cui veniamo in qualche modo e per combattere lo stigma cerchiamo anche a volte di dimostrare che non è esattamente come viene dipinto e a volte c'è il rischio di sorvolare su alcune cose io ad esempio quando parlo del mio quartiere cerco di essere il più onesta possibile e di dire sì è vero alcune cose sono problematiche ma non è colpa nostra cioè quello che dicevi tu prima responsabilità e colpa sono due cose diverse noi possiamo essere responsabili ma anche fino al punto in cui possiamo scegliere quando non possiamo più scegliere qualcuno ha scelto per noi quindi forse un primo punto intanto è riconoscere questo sguardo esterno e invertire cominciare a chiedere noi spiegazioni non perché sei transfeminista perché tu non sei transfeminista cominciamo a invertire la dinamica di potere questa è una cosa che inizio a fare anche da relativamente poco soprattutto quando si tratta di antispiacismo perché vabbè che mi chiedono sempre ma perché non fai questo perché tu mangi gli animali perché tu sfrutti le mie sorelle non umane perché ti nutri dello sfruttamento riproduttivo delle vacche da latte perché spiegami tu qual è il motivo razionale per cui tu oggi lo fai questa è una pratica transfeminista che inverte totalmente i meccanismi di potere e sposta totalmente i piani ed è una cosa banalissima a volte non è facilissimo da fare però ci può stare una delle cose secondo me più preziose che ci permette anche di non romanticizzare i nostri spazi e quindi di rivendicare anche i problemi che questi spazi spazi hanno creato per noi perché comunque portiamo anche addosso delle cicatrici che derivano dai luoghi che abitiamo io ve lo dicevo prima nel mio quartiere la violenza di genere non si chiama neanche così cioè sono rapporti di coppia essenzialmente cioè da noi ci viene insegnata romanticizzare la relazione disfunzionale si diventa madre molto prima statisticamente rispetto in altri posti perché quello che cerchi l'unico valore che puoi avere in quanto persona socializzata come donna è che un uomo a un certo punto ti scelga e si è anche un po' teppista un po' tenebroso che tu sia la sua scala il fattore c'è il retaggio dantesco tragico perché diventiamo tutte Beatrice di un tizio che comunque era uno stalker e questo riguarda anche il modo in cui raccontiamo la storia secondo me da un lato è preziosissimo che noi ci riappropriamo di una narrazione storica reale riconosciamo i suoi limiti ma andiamo avanti cioè prendiamo il punto in cui c'è stata la rottura perché noi purtroppo siamo ancora nello spazio nel momento storico in cui dobbiamo dimostrare che c'è stato un vizio di narrazione un vizio di forma che non è vero che il capitalismo ha fatto cose buone che non è vero che le enclosure sono state un'ottima cosa perché hanno distrutto delle comunità di donne che vivevano in comunità perché hanno distrutto le coltivazioni condivise perché hanno fatto delle cose tragiche e da lì provare a pensare a delle alternative e farlo insieme attraversare degli spazi transfeministi a volte non è semplice perché quello che raccontavi prima bisogna trovarli bisogna trovare la propria storia il proprio retaggio bisogna poterli attraversare e magari non è neanche detto che nel proprio spazio di utenza familiare vitale si possano attraversare quegli spazi in sicurezza perché poi magari c'è lo stigma di essere stata lì può essere pericoloso per una persona che magari vive in un contesto familiare piuttosto che in motivi relazionali in cui questa cosa è problematica e quindi dobbiamo sempre andare a cercare da qualche parte la rete in questo senso aiuta un po' perché per quanto sia disfunzionale comunque ci permette anche di avere delle reti transfeministe nazionali che ad esempio operano per quanto riguarda la cura ginecologica piuttosto che l'educazione sessuale o il sesso affettivo o cose di questo tipo e io guarda l'unica cosa che mi sento di dirti io a un certo punto della mia vita ho trovato uno spazio transfeminista antispecista e questa cosa mi ha cambiato la vita perché è stato non lo so per la prima volta mi sono detto ok io oggi ho una famiglia e questo spazio è l'iposi lo spammo sempre perché è un posto bellissimo mi dovesse capitare di andare meraviglioso ed è uno spazio che si occupa di cura transpecie questo vuol dire che si occupa di animali non umani che si sono liberati o che sono stati liberati poi vi racconto una storia così poi chiudo questa roba e lascio il spazio a Claudia che non voglio assorbire tutta l'area della stanza è uno spazio però che si prende anche cura delle persone non con quella cura pietistica del tipo ah vieni che ci abbracciamo e ci vogliono tanto bene anche perché non me dovete toccare però è proprio uno spazio dove noi abbiamo le dimensioni per esistere dove facciamo vita comunitaria dove facciamo un lavoro che non è retribuito e per questo è ancora più potente perché è uno spazio in cui l'attività lavorativa è anticapitalista perché è un'attività di cura che è proprio finalizzata all'individuo che abbiamo avanti a prescindere dalla sua specie ed è un lavoro costante anche di ricostruzione al momento dobbiamo essere in grado di accogliere poi vi racconto questa roba e mi taccio per farvi capire quanto sono potenti questi spazi e quanto sono potenti anche le alleanze transpecie quindi il transfemminismo antispecista tempo fa Lippoasi è arrivata a una capra questa capra era scappata dal suo allevamento e mi spiace questa capra peccato di ingenuità si è rifugiata in una caserma vabbè questi della caserma fortunatamente sapevano che vicino c'era il rifugio antispecista Ippoasi quindi loro sono andati a prendere questa capra l'hanno portata all'interno del rifugio quindi questa capra si è liberata il giorno dopo che è arrivata al rifugio questa capra ha partorito due cuccioli che sono nati in libertà che sono nati senza essere capi da reddito senza essere fornitori di latte fin tanto che ce la fanno essere inseminate per poi essere sgozzate sul posto che sono nati in un posto in cui non saranno mai carne da macello in cui avranno il diritto di morire di vecchiaia se non di malattia e di essere piante perché in questi spazi si piangono le compagnie e le sorelle che è un diritto che di solito rimane solamente che viene riservato ai cani e gatti questo è quello che il transfeminismo può fare quando è intersezionale e ce lo possiamo andare a cercare se possiamo arrivare a questi spazi ma possiamo anche ricordarci che ogni volta che noi ci poniamo nell'ottica di essere e di militare come persone transfeministe noi siamo quello spazio solo due cose velocissime allora io ho un consiglio che è una richiesta per persone terrone e non però soprattutto per quelle che non lo sono secondo me possiamo fare una cosa molto semplice dovrebbe essere semplice anche un'azione individuale prima che collettiva che a volte è più immediata rinunciare alle rappresentazioni stereotipate del meridione cioè rinunciare a ripetere queste rappresentazioni qua il meridione viene raccontato essenzialmente in due modi come un paradiso per turisti o come un luogo fatiscente in cui è meglio che non ci viva nessuno secondo me possiamo fare questa azione anche attraverso i social che comunque sono delle piattaforme molto potenti rinunciare quando siamo in vacanza in Sardegna o in Sicilia a tendere a quella rappresentazione là oppure se ci capita di vedere della spazzatura invece di puntare all'inciviltà delle persone credendo di denunciare qualcosa provare a capire perché quella spazzatura è là e se c'è un problema più ampio dietro a questi fenomeni non perché non esista l'inciviltà però diciamo molte volte è parziale quindi questa cosa è molto semplice però per rispondere alla domanda che cosa facciamo che a me personalmente viene rivolta molto spesso non so a te Martina e io veramente mi trovo incapace di dare questa risposta perché credo che bisogna trovare la risposta in modo collettivo altrimenti sarà una visione parziale di un problema troppo grande noi all'interno dell'associazione abbiamo pensato a dei format laboratoriali in cui facendo delle cose che può essere un collage che può essere lavorare in legno allestire uno spazio dialogare stiamo cercando di capire insieme che cosa dobbiamo fare e insieme vuol dire la nostra associazione con la community con altre associazioni del territorio con realtà che si occupano anche di altre tematiche in modo prioritario e ci invito a fare questa cosa qua cioè recuperare la dimensione della convivialità dell'incontrarsi però con l'obiettivo di capire che cosa facciamo perché poi deve essere contestualizzata cioè non è un che cosa facciamo in astratto è qui nel contesto che viviamo noi con le problematiche con i vantaggi che ci sono in questo posto cosa possiamo fare che secondo me può essere molto utile io adesso sto sperimentando questa cosa di fare un corso online sull'intersezionalità vista da sud e proprio oggi pensavo che a seguito di questo corso vorrei creare uno spazio anche virtuale in cui altre persone oltre a me possano esprimersi sulla tematica perché non voglio essere da sola cioè io non voglio fare questa cosa da sola non ha senso non possiamo andare da nessuna parte grazie grazie c'è ancora tempo per un'altra domanda se volete se no allora facciamo così vi leggo una delle ultimissime pagine del libro di Martina in attesa che arrivi anche il libro di Claudia in autunno il libro si intitola Femminismo di Periferia lo ha pubblicato l'editore Sonda e vi leggo per concludere questa pagina secondo me molto importante Martina scrive siamo persone siamo persone dei quartieri popolari non cose pericolose siamo sorelle invisibili che lavorano in ogni momento disponibile per costruire un ponte tra i bisogni reali e i servizi disponibili siamo collettività che talvolta non si incontrano ma lavorano le une con le altre per portare sul piatto della bilancia alternative valide siamo le persone che non lottano solo per il proprio diritto ma che lavorano contro il proprio privilegio siamo il femminismo degli scarti dei margini degli spazi dimenticati dei soggetti non riconosciuti e dell'ascolto delle invisibili e degli invisibili siamo la rivendicazione attiva di un mondo diverso che non punta alla crescita come unica ambizione bensì alla redistribuzione e alla decrescita che riconosce che ogni ricchezza prodotta è intrinsecamente collettiva perché è generata a partire da risorse comuni prese dal pianeta e dal lavoro più di tutto dallo sfruttamento delle masse di individui umani e non umani lavoriamo per un mondo in cui si produce per bisogni reali e non per un consumo fine a se stesso vogliamo una futurità ecologista meticcia queer e antispecista io voglio voglio ringraziare il circolo dei lettori voglio ringraziare MindGap perché per me questo incontro è stata un'opportunità molto preziosa e quindi voglio anche ovviamente ringraziare e salutare Claudia Fauzia e Martina Miccichè e grazie a voi ovviamente grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi